Non sono le classiche tematiche politiche ma se riferite ad un'intera comunità sono molto importanti e soprattutto trasversali. L'incontro voluto questa mattina in provincia Pescara dall'Associazione Culturale Sant'Andrea APS ha riunito i quattro candidati a sindaco della città, l'uscente Carlo Masci del centrodestra, il candidato del centrosinistra Carlo Costantini, il civico Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa. Quattro anche le tematiche, inclusione lavorativa disabili, dopo di noi, barriere architettoniche e social housing. Ogni candidato sindaco ha esposto le proprie idee su ogni punto in modo da fare conoscere il programma sociale con le soluzioni da portare avanti. All'incontro hanno partecipato diverse associazioni del mondo del sociale e del sanitario iscritte all'albo del terzo settore del comune di Pescara. Un momento, se vogliamo, unico per incontrare i candidati su problematiche che interessano le associazioni e anche un modo per fare squadra ed essere più forti nelle richieste.